Non smette di tremare la terra nel Cesenate con uno sciame sismico che continua da giorni. Anche stanotte alle 3.50 del mattino si è verificato un terremoto. Il sisma di magnitudo 2.5 è avvenuto a 5 km a ovest di Cesenate con una profondità di 19 km. Nessun danno a cose o persone. Anche stanotte alle 3.50 del mattino si è verificato un terremoto.